Novità in arrivo ai vertici della Banca d'Inghilterra. A portarle sarà il nuovo governatore Mark Carney, attuale capo della Banca del Canada e primo straniero ad occupare lo scranno più alto dell'istituto inglese in 318 anni di storia. Promesse di prudenza a parte, Carney non è escluso davanti alla commissione parlamentare che lo ha interrogato politiche di stimolo più aggressive per l'economia. Un obiettivo, quello della crescita, che vorrebbe coniugare con il controllo dei prezzi, fissando obiettivi di inflazione flessibili.